benvenuti cucina per te oggi vi propongo una ricetta fresca light e buonissima prepariamo infatti dei ghiaccioli allo yogurt e frutta che sembrano quasi dei gelati ma che hanno solo 30 calorie per unità quindi meno di un ghiacciolo vediamo quali sono gli ingredienti e prepariamoli insieme per quattro ghiaccioli da 60 ml occorrono 140 grammi di pesche 110 grammi di yogurt bianco 0 per cento di grassi 15 grammi di stevia per preparare i ghiaccioli iniziamo sbucciando e tagliando a pezzi le pesche frulliamo le pesche con un frullatore ad immersione dolcifichiamo il frullato con 5 grammi di stevia dolcifichiamo anche lo yogurt con i restanti 10 grammi di stevia riempiamo lo stampino per metà con lo yogurt e per metà con il frullato di frutta però se avete stampini verticali versate prima il frullato di frutta lo riponete in freezer per 10 minuti e poi aggiungete lo yogurt aggiungiamo qualche pezzetto di pesca nello yogurt riponiamo tutto in freezer per circa sei ore e gli accioli e lo yogurt e frutta sono pronti freschi e salutari potete variare il gusto utilizzando la frutta che preferite spero che anche questa video ricetta vi sia piaciuta mi raccomando continuate a seguirci sul nostro sito web ma soprattutto iscrivetevi al nostro canale youtube un saluto e alla prossima video ricetta iscrivetevi al nostro canale